Sono Daniela Salzano, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo XIX Russomontale. Questa mattina concluderemo un po' le attività del primo percorso di educazione alla legalità che i nostri bambini hanno seguito grazie anche alla partnership dell'Associazione Libera. I bambini hanno lavorato proprio in quest'aula che sarà intitolata da Tilio Romanò proprio sulla storia di questa giovane vittima innocente di un agguato di camorra. Inoltre hanno anche cominciato a familiarizzare con i nomi del giudice Falcone e del giudice Borsellino e visualizzeranno, sicuramente cominceranno a lavorare anche sulla figura di Giancarlo Siani proprio in quest'anno. Quindi abbiamo deciso con il Consiglio di Ciccolo di intitolare questa aula da Tilio Romanò il laboratorio di informatica di questo plesso a Giancarlo Siani, l'aula magna del plesso frebelliano al giudice Falcone e il laboratorio di tecnologia, quindi di informatica, del plesso frebelliano al giudice Borsellino.